In 17 sono risultati idonei e test preliminari che consentono l'accesso alle fasi successiva del concorso. 83 concorrenti partecipanti su 142 che hanno presentato domanda sono i numeri della prima fase, quella preselettiva, del concorso pubblico bandito alla comune di Sulmona per ricoprire due posti di struttura e direttivo categoria D a Palazzo San Francesco. Un metodo basato sulla trasparenza è quello che sta portando avanti l'amministrazione, affermano il sindaco, Anna Maria Cassini e l'assessore Cristia La Civita spiegando che la preselezione sarà affidata a una società specializzata nel settore e le prove sono state distribuite dalla stessa in tempo reale al momento dell'avvio della prova stessa. I concorrenti hanno risposto a 30 domande. Il tutto si è svolto con la massima imparzialità e correttezza attraverso l'ausilio di moderni sistemi informatici. La fase successiva prevede due prove scritte e un orale. Il calendario delle prove sarà comunicato il prossimo 20 aprile. Grazie a tutti.